Buongiorno, si sente? Si sente bene? Possiamo cominciare? Va bene, aspettiamo un attimo che si sistemano lassù. Intanto vi ringrazio per essere intervenuti stamattina con un po' di difficoltà, però ci siede e questo è importante. Ringrazio i professori e tutta l'organizzazione. La presentazione presso l'Università di Cassino del documento e documentario, perché presenteremo anche un documentario oggi, dedicato alla figura di Clare Bott Luce, ambasciatore degli Stati Uniti a Roma dal 1953 al 1957, è l'occasione per discutere del piano che il 5 giugno del 1947, il segretario di Stato statunitense George Marshall annunciò al mondo dall'Università di Howard. Il progetto denominato ufficialmente ERP, cioè Piano per la Difesa Europea, passerà alla storia semplicemente come Piano Marshall, in riferimento agli aiuti economici per la ricostruzione dell'Europa stroncata dalla Seconda Guerra Mondiale. Washington cercò di spingere gli europei a utilizzare gli aiuti non solo per fronteggiare la condigenza del momento, quanto piuttosto per avviare un processo di trasformazione strutturale dell'economia. Gli aiuti americani, erogati per quattro anni a partire dalla primavera del 1948, consentirono in prima battuta di superare l'emergenza alimentare e le carenze energetiche per poi essere indirizzati verso i beni di investimento necessari a sviluppare gli apparati industriali. Cioè il mito dell'America ricca e democratica in cui è possibile costruire un futuro migliore nasce a partire da questa lettura del piano. Ovviamente però non si trattò di semplice beneficenza, il piano mirava al raggiungimento di due obiettivi particolarmente importanti per gli Stati Uniti. Il primo riguardava l'influenza dell'URSS, siamo infatti nel periodo appena precedente allo scopo della guerra fredda, che avrebbe visto contrapporsi le due potenze, il considerarsi di una crescita economica mirata a stabilizzare le democrazie europee. Avrebbe poi portato le opposizioni, le famose opposizioni, allora si parlava di opposizioni comuniste. Con la riorganizzazione dell'Europa occidentale in sviluppo nella sfera di influenza americana, si sarebbe poi la chiusa l'Unione Sovietica entro i confini del suo impero, mantenendo una configurazione dell'assetto mondiale favorevole alla potenza americana. Il secondo motivo invece era interno, regato all'economia stessa degli Stati Uniti, il prestito condizionato veniva erogato in cambio dell'impegno ad acquistare in America i prodotti necessari alla rinascita. Gli Stati Uniti uscirono infatti dalla seconda guerra mondiale in una posizione di schiacciante superiorità economica con un territorio indenne in quanto il conflitto si era, sapete tutto, tutti si era combattuto principalmente dove in Europa la necessità prevalente era mantenere alto lo straordinario livello di produzione raggiunto e il regito nazionale americano, evitando così il rischio di una contrazione dell'economia statunitense. Un successo in chiave economiche è un modello che sembra ancora oggi essere preso come riferimento in ogni situazione di crisi. L'idea di questo documentario che oggi vedremo fra poco è dedicato alla permanenza di Clara Butluce, abbiamo detto prima, a Roma e nasce dalla vita di questa poliedrica, protagonista della vita politica e culturale statunitense. Cinque giorni fa abbiamo portato dei giornali, è uscita addirittura una pagina intera sul follo dedicata a questo personaggio. Dunque, fra rilezione di stampo storico, considerazione di costume e anetodi conservati nei decenni, il documentario breve di Alessandra, la regista e questa bonabina, si è concentrato sui quattro anni in cui la bot rimase in Italia. Fra poco vi faremo vedere questo documentario come già avevo detto, in cui visse questa donna prima in Italia e volevo sottolineare un'altra cosa, verrà inoltre messo in luce l'impatto culturale della bot luce, capace di dare, forse voi non lo sapete ma lo vedrete, di dare vita alla Hollywood sul Tevere, al festival dei due mondi di Spolete e tanti altri casi di soft power. Questo è il personaggio che fra poco andremo a vedere, però prima di cominciare, prima di farvi vedere questo documentario che dura all'incirca penso 20-25 minuti, poi ci spiegherà il dottor Bartolomucci, sarà presentato in un'occasione importantissima, quindi in anteprima, quasi in un'anteprima facciamo oggi, anzi facciamo un'anteprima nazionale, prima di cominciare passo la parola magnifico rettore, il signor Ciro Attaghanese che ci porterà i tuoi saluti, grazie. Buongiorno a tutti, ovviamente saluti un po' di dovere ma in questo caso al di fuori direi di qualunque retorico perché ci troviamo di fronte a una manifestazione ancora una volta di vitalità dell'Ateneo, è un momento importante, inizia un periodo importante, in realtà tutto quest'anno è importante perché vi ricordo che stiamo ricordando i 70 anni di tutto quello che è avvenuto in Italia nel 1944, sono eventi molto importanti e credo che anche la storia, le storie che sentiremo oggi sono frutto diretto di quegli eventi, quindi si inquadra perfettamente in questa catena che abbiamo avviato. Ovviamente io ringrazio gli organizzatori, il Dottor Gionfanti che è qui in rappresentanza dell'ambasciata e che ci illustrerà il filmato che sarà presentato. Abbiamo avviato un periodo di ricordo, l'Ateneo si è impegnata in questa attività di ricordo, proprio in quella linea che vede l'Ateneo molteplice nelle sue manifestazioni, non soltanto ricerca, non soltanto didattica, non soltanto supporto al territorio attraverso i suoi laboratori, ma anche attraverso un'attività di formazione che va un po' al di là di quella tradizionale. Siamo convinti che la memoria rappresenta un valore, un valore da serbare, soprattutto nella memoria di eventi così trucidi, così brutti. Io sono personalmente convinto che mano a mano che la memoria si affivolirà perché i testimoni oculari scompariranno, potrebbe riaffiorare, questo è quello che dobbiamo evitare, la tentazione da parte di qualcuno di risolvere con la guerra problemi, magari in nome di una giustizia superiore. Questo è il punto fondamentale ragazzi, per cui rispetto proprio a questo problema i giovani devono alimentare, il ricordo dei giovani deve essere alimentato in termini valoriali. Da questo punto di vista questa è un'iniziativa, volevo colgo l'occasione anche per ricordarvi che inizia un periodo particolare perché dall'11 al 18 maggio avremo Peace Fix, che è nato da un'idea di questo Ateneo, proprio per ricordare i 70 anni della battaglia di Monte Cassino, quella che viene chiamata battaglia di Monte Cassino, che in realtà, qui abbiamo poi la professoressa Casmir, ce la puoi insegnare, probabilmente l'insieme di quattro diverse battaglie che hanno visto, culminate poi con l'attraversamento della linea difensiva, il 18 maggio, ma precedentemente distruzione di Monte Cassino e di Cassino, 15 febbraio e 15 marzo. Bene, noi siamo partiti da un'idea lì, la battaglia di Monte Cassino è la battaglia che ha visto, credo non ce ne sono altre, me ne hanno dato conferma anche il Ministero della Difesa che ha accolto alla grande questa idea, la più grande varietà di nazionalità presenti sul campo di battaglia nello stesso momento. Io ho iniziato a fare una cernita, ma se andiamo oltre gli stati bandieri sono arrivato a qualcosa come più di 25 nazionalità differenti. Allora l'idea è quella, per ricordarli in maniera un po' diversa, per celebrarli in maniera un po' diversa e quindi evitare di deporre la solita corona che sicuramente va bene, sicuramente funziona, ma probabilmente lascia meno traccia nella memoria dei giovani ai quali noi vogliamo parlare, abbiamo spostato la contesa dal campo di battaglia al campo di gare e quindi abbiamo chiesto alle rappresentative militari di quelle nazioni che hanno combattuto qui nei pressi, in questo teatro di guerra nel 1944, di venire qui a contendersi dei trofei sportivi. Lo sport è pacifico per antonomasia, nello sport la diversità è ricchezza, c'è competizione ma non c'è antagonismo e quindi hanno accettato, ci limitiamo ovviamente ad alcuni sport, l'atletica leggera, il calcio, ci sarà la mitica Germania Italia, militare, quindi credo anche un po' di richiamo, la scherma e l'equitazione. Ma non solo questo, allo sport come è nostra abitudine abbiamo unito anche un evento che è culturale, specifico, ci sarà un convegno sul valore dell'Europa, in particolare dell'europeismo, visto il tema che stiamo trattando, il convegno si occuperà delle prospettive della difesa comune europea, un tema che alla vigilia dell'imminente presidenza italiana dell'Unione Europea può assumere un nuovo slancio in quanto sia un po' affievolito. Io vi aspetto tutti quanti, questa è una serie di iniziative che abbiamo messo in campo, sul sito peacefix.org troverete tutto il programma che è ancora in divenire perché chiaramente organizzato col Ministero della Difesa abbiamo ricevuto non solo l'alto padronato del Presidente della Repubblica e quello del Ministero della Difesa ma abbiamo ricevuto l'adesione personale del Presidente della Repubblica il quale ha voluto personalmente congratularsi con l'Università nella persona del Rettore per l'iniziativa intrapresa e anche il patrocino della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Quindi è un'ulteriore ennesima manifestazione di vitalità di questa Teneo grazie a tutti quelli che ci lavorano dentro e quindi vi aspetto numerosi. Detto questo io mi taccio, rinnovo il ringraziamento agli organizzatori, faccio soltanto una considerazione stiamo parlando di un'ambasciatrice, stiamo parlando degli anni 50, quindi una figura femminile di spicco nel mondo della politica, di una politica anche gestionale visto che c'era il piano Marshall per lo mezzo, quindi c'era un transito di supporto finanziario, quindi di finalizzazione di questi strumenti finanziari, quindi una figura femminile e questo mi sembra molto significativo in un momento in cui si parla tanto di pari opportunità. Grazie e buona ora a tutti. Bene, ringraziamo il Rettore, però ringraziamo anche per averci ospitato per questo convegno. Volevo anche ringraziare, purtroppo non c'è oggi per questione logistica, il professor Traffelli tra i Coltrini, che ci ha dato una mano nell'organizzare questo convegno, quindi è doveroso ringraziarlo. Anzi, facciamo un applauso. Allora, facciamo una cosa adesso, prima di far parlare il nostro personaggio che è John Fanti, che è poi un personaggio anche John Fanti, poliedrico, importante, vi faccio vedere adesso il documentario, così vedete quanto è bello questo documentario e ripeto ancora, in prima nazionale, verrà presentato da qui a pochi mesi, poi lo racconterà, in un grosso evento che si farà. Allora, stavo dicendo, prego la regia di mandare in onda il filmato, se è possibile. Oh, you'll never forget the view of the netto in Rome, wonderful Rome, that romantic street West Rangers can meet in Rome, wonderful Rome, if your devil may care a drive for fair, to take a walk or a drive, it's a positive sense that a pass on those pins will make you know your life. No, you'll never regret the view of the netto in Rome, marvelous Rome. È per me un grande honore e un gioia parlare oggi a voi in Italia, in bella Italia, in bellissima Italia, in qualità di ambasciatore del Presidente Eisenhower. L'ambasciatrice Lewis arriva in Italia durante la guerra fredda. È un periodo della vita internazionale drammatico, c'è ancora Stalin e Stalin morirà un mese dopo l'arrivo a Roma dell'ambasciatrice e con la morte di Stalin cambierà anche tutta la situazione internazionale. In Italia lei trova una situazione molto complessa. Nell'immediato topoguerra il nostro paese si ritrova ad essere la linea di confine dell'Occidente nella nuova guerra, la guerra fredda che sta per iniziare con l'Unione Sovietica e con il passo di Varsavia. Di qui la grande importanza strategica di un paese come l'Italia per la guerra fredda. la Germania ed Italia sono i grandi confine dell'Occidente. Nel 1953, l'anno dell'arrivo dell'ambasciatrice a Roma, l'Unione Sovietica fa esplodere la prima bomba all'idrogeno, il che significa che c'è un equilibrio del terrore tra Occidente e Oriente. C'era molta preoccupazione per l'attività del movimento comunista originato, sostenuto, finanziato e diretto dall'Unione Sovietica che tentava di sovvertire l'ordine nell'Europa occidentale di cui l'Italia era una parte. C'erano i gruppi sindacali, quelli culturali, i partigiani della pace che lavoravano tutti a sabotare la Nato e a espandere l'influenza sovietica. In quegli anni gli Stati Uniti erano molto preoccupati per la sopravvivenza dell'Europa occidentale nel mondo libero, perciò nacquero la Nato, il piano Marshall. C'era una grande preoccupazione, il più grande momento della sfida contro il comunismo in Europa. Eisenhower pensava che lei era la donna giusta, la persona giusta per prendere questo incarico. Quando fu inviata a Roma, mi vennero indicati nove obiettivi specifici. Tutti si riassumevano nella volontà di aiutare il popolo italiano a riaversi dalla terribile avventura bellica e ad entrare saldamente nella comunità economica e difensiva dei paesi democratici. Questo onestamente anche nell'interesse del popolo italiano e non solo nel nostro. L'ambasciatore di Luce si immerge in questo clima italiano, in questo clima di guerra fredda e incomincia a bombardare il Dipartimento di Stato ma anche direttamente la Casa Bianca perché lei aveva un rapporto diretto con il presidente Eisenhower con toni molto preoccupati sulla situazione italiana. Si aspettava ogni giorno per l'invasione della Russia contro l'Europa in quell'epoca. Lei ha accusato le russi di un avellamento contro di lei. La vera storia è che lei rimaneva a letto ogni mattina, lavoravo lì prendendo il caffè e la prima colazione e sembra che c'era una vernice del soffitto, era fatto con un po' di piombo e questi pezzetti cadevano nel caffè che lei si pensava subito, mi avvedono. Perciò anche il Piano Mascio è stato creato per bloccare quell'invasione, per rafforzare l'Europa economicamente. A Roma, all'ambasciata, c'è una stanza bellissima dove la regina Margherita di Savoia soggiornava e lì l'ambasciatrice Luce una volta alla settimana convocava i vari rappresentanti della CIA per discutere con loro la politica in Italia. Colby racconta che in queste riunioni lui cercherà di far capire all'ambasciatrice che il partito comunista italiano è un'organizzazione troppo forte per poterla mettere fuori legge. Qual è la strategia chiave che lei comprende e sulla quale dimostra grande intelligenza politica e grande intelligenza storica? Lei capisce che se si vuole far sì che l'Italia resti nel campo democratico liberale e occidentale occorre anche una strategia del consenso sociale. Occorre far sì che le masse proletarie e agrarie di questo grande paese che è uscito distrutto e prostrato dalla guerra non vengano attratte dal mito del comunismo e che il comunismo negli anni 50 è ancora un mito forte. Il governo nell'agosto del 1953 passa a Pella e Pella avrà da affrontare il problema di Trieste perché gli italiani sono contrapposti con la Jugoslavia di Tito per quanto riguarda il territorio libero di Trieste. Come l'ambassatrice era molto efficace, molto, molto brillante e lei poco a poco ha acquistato la confidenza e la fiducia sinistra e destra, tutte le soluzioni di Trieste è molto dovuto a lei e questo è già conosciuto storicamente. Io poi avevo scelto un mio personale obiettivo che tutti a Washington credevano impossibile cioè ridare Trieste all'Italia e questo soprattutto perché mi ero resa conto che tutti i nostri sforzi per integrare l'Italia nella comunità difensiva ed economica atlantica erano bloccati dai risentimenti per il problema di Trieste e ci riuscimmo. Quando la Luz arrivò a Roma nel 1953 chiese alla sua segretaria di fargli degli appuntamenti con alcuni atelier dell'epoca per fare un suo guardaroba soprattutto per le occasioni ufficiali. Così tra le varie case di moda che la segretaria della Luz contattò contattò anche Fernanda Gattinoni. La Gattinoni arrivò a Villa Taverna e fece un'anticamera di un'ora al che fece chiamare la segretaria e gli disse guardi io non sono abituata a fare queste anticamere ho un atelier con cento persone dica all'ambasciatrice che se ci vuol conoscere e vuol vedere le nostre collezioni venga da me a Via Marche. Alcuni giorni dopo l'ambasciatrice andò in atelier e cominciò questo rapporto con la Gattinoni che durò tutto il tempo che l'ambasciatrice si occupò appunto a Roma dell'ambasciata americana e anche dopo. Era una donna veramente magica perché aveva questa atmosfera intorno a lei lei era certo una persona che ha fatto molto nel mondo e poi anche era sposato con uno dei uomini più grandi del mondo o Henry Luce Editore delle due grandi riviste americane Time e Life lei aveva frequentato i più grandi personaggi della mondanità andava anche al Festival di Venezia e quindi la mondanità si legava con l'attività politica in Italia e internazionale. Appena la Gattinoni la vide le disse che vestiva male e che aveva delle bruttissime scarte questa fu la carta da visita per entrare appunto nelle grazie dell'ambasciatrice essendo una donna di successo era abituata ad avere intorno tutta gente che la adulava e l'ambasciatrice si trasformò da signora americana di quegli anni diventò una delle donne più eleganti d'Italia Fernanda Gattinoni gli fece tagliare i capelli e gli dette una cartella di colori da usare che erano i colori che gli stavano bene e siccome aveva un corpo ben fatto era una taglia 42 ed aveva un corpo veramente ben delineato vestiva all'usanza di allora sempre abiti con dei bustier stretti in vita e delle gonne piuttosto morbide ricordo che lei è venuto a nostra casa per un ricevimento è venuto dietro dove c'erano noi tre bambine lei si è entrata come una grande diva ci avevo sempre tenuto in mente questa impressione di una donna una diva bella di carattere molto forte era una donna con grinta proprio non c'era niente che era impossibile per lei io ho capito lei dopo non mi abita lei era una donna complessissima ma intelligentissima una meravigliosa amica era una donna che non aveva dubbi era proprio sapeva chi era molto elegante usava tutta la sua charla lei mi ha chiesto di venire a trovarla e mi ha detto che la Eisenhower che era Presidente a quel momento scritta tutti i suoi ambasciatori che devono cominciare a dipingere è una cosa molto strana voleva che io aiuto lei a dipingere e così mi ha detto io vado in America faccio un turno e quando ritorno porterò tutti i prezzi per noi di cominciare a dipingere quando lei tornava dall'America ha mandato la macchina per me e lei stava lì piena di colori colori che io non potevo mai prometteremi di comprare erano colori così costose pannelli cose incredibili ho detto ma io non ti ho dato queste informazioni dove le hai trovate tutte quelle diceva ma tornando negli Stati Uniti dovevo andare a Londra così ho visto Winnie Churchill e ho spiegato anche io comincerò a dipingere e lui ha detto lasciami aiutarti è lui che ha fatto comprare tutte quelle cose ho detto va bene cosa facciamo io farò uno ritratto di te e tu fai uno di me questo è il pinto e aveva ragione non mi simula affatto è mia prima prova Roma 55 la Gattinoni diventò in un certo senso anche la confidente della Luz mi raccontava Fernanda che andando a Villa Taverna a fare delle prove di abiti trovò la Luz in lacrime molto molto provata e gli chiese cara che succede come mai hai questi occhi così di pianto e la Luz gli confidò che era molto innamorata di Errol Flynn che purtroppo si era sviluppata una passione una storia che non stava in piedi a cui tutti e due dovevano rinunciare mi diceva mi deve chiamarmi Claire io credo che è importante che sa che ci sono due cose non sono del suo partito infatti sono molto contrario ai repubblicani e non sono anche delle sue religioni e lei commentava a ridere ha detto se tutti i miei amici doveva essere il mio partito e anche la mia religione non avrà un amico non è che abbiamo cercato di essere amiche eravamo così diversi però non so lei si trovava bene con noi Claire Botlus aprì le porte del mercato americano alla Maison Gattinone proprio grazie alla pubblicità e alle immagini che comparivano sui giornali di moda e non di moda negli Stati Uniti e fu un po' la fortuna per l'atelier Gattinoni perché da allora in poi tutte le signore dell'alta borghesia americana della politica di Washington eccetera quando venivano a Roma venivano a farsi i guardaroba dalla Gattinoni le grandi produzioni americane trasferirono molti set a Roma e quindi le attrici famose dell'epoca venivano a Roma per girare i film da Ava Gardner Elisabeth Taylor Lana Turner Barbara Stanwych e molte altre la Luz si occupava anche dei rapporti tra le grandi major americane e cinecittà quando Lana Turner nel 54 venne a Roma per girare un film andò a pranzo una sera con Fernanda Gattinoni che aveva realizzato gli abiti per Lana Turner in ambasciata dalla Luz e così con molte altre attrici dell'epoca Barbara Stanwych che già conosceva Claire Bot Luz dagli Stati Uniti quando venne a Roma a girare un film storico fu addirittura ospitata a Villa Taverna a tutte le prime dei film americani soprattutto quelli girati in Italia la Luz era presente conobbe Audrey Hepburn a Roma nell'ultimo anno il cui appunto la Luz era ambasciatrice qua la conobbe perché Audrey Hepburn venne a girare a Roma il famoso film di King Vidor Guerra e Pace e anche in quel caso gli abiti del film furono realizzati e disegnati da Maria De Matteis e Fernanda Gattinoni che per quegli abiti ebbero la prima nomination all'Oscar ad uno stilista e non a un costumista la Luz adorava Anna Magnani fu lei proprio a favorire che uno dei film dell'epoca della Magnani fosse proiettato negli Stati Uniti e quando mi richiamerai? no no ascolta ascolta amore mio amore mio ti ho fatto tanto ma l'ascoltami amore mio senti pronto? raccontava Fernanda che un giorno d'estate accompagnò la Luz nella villa di Rossellini e della Bergman ma tra le due non scoppiò proprio quella simpatia e quell'empatia per un fatto di pelle ha trovato qualcosa lei è un dottore che fa per me dovrei pagarle la visita no? ma ancora non le ho mandato il conto ecco prenda per cominciare ma non è abbastanza aveva proprio una particolare sensibilità per il cinema gli piaceva moltissimo tanto che vedremo più avanti scrisse anche dei soggetti giornalista scrittrice una sua commedia è stata presentata anche a Broadway oltre a essere stata la direttrice di Vanity Fair e di aver fatto la fortuna di quel giornale dandogli internazionalità Scoleto l'antica città etrusca dove morì Lucrezia Borgia la cui pratica di veleni non trova seguito tra le donne del bel mondo d'oggi ha costituito un ponte ideale con New York il festival dei due mondi apre le sue porte all'arte vestita a festa le vecchie vie medievali sono state trasformate in un grande ridotto per una specie di cocktail della mondanità intellettuale dei due continenti festa dei carne mondani le signore perdono gioielli da 12 milioni ma non perdono neppure una nota delle musiche moderne trasportate qui dal maestro Menotti cittadino di Manhattan e delle verdi campagne attorno a Varese arrivano i fedelissimi della Scala e del Metropolitan il pubblico è quello delle grandi occasioni tutti intenditori di musica c'è stata anche una breve incursione aerea il volo di Lualdi e Zuffi sulle torri di Spoleto non è certamente paragonabile nella fase iniziale il contributo americano è stato determinante perché il festival potesse decollare Menotti stesso scrisse una lettera all'allora Presidente Americana Eisenhower perché partecipasse alla sopravvivenza di questo festival e Eisenhower personalmente staccò un assegno di 500 dollari che allora erano parecchi soldi la Luz era già partita ma ha dato un gran sostegno a questo nuovo festival due anni prima 1957 la Luz è una persona mitica veramente tutti ricordano la personalità perché è una grande personale e anche era la prima donna è una di pochi doni che è stato un grande paese nella nostra storia che è un grande paese Ebbene, buongiorno a tutti, salute, arrivederci. Grazie a tutti. Allora, avete visto questo filmato? Io l'ho visto insieme a voi per la prima volta, vi è piaciuto? Sì, sono messi, sei più forte? Sì, sì o no? Sì, sì. Allora, abbiamo visto come è stato forte l'impatto di queste ambasciatrici in questo periodo storico, però vorremmo saperne un po' di più e noi abbiamo invitato la professoressa Silvana Gasmirri ordinari di storia contemporanea dell'Università di questa Università. Il tema è il piano Marshall e l'Italia, aspetti economici e politici. Ecco, quindi ascoltiamo la professoressa, bravissima, espertissima, che ci racconterà un po' questo momento storico. Grazie al professor Polidoro, questo suo apprezzamento nei miei confronti mi grava di una grossa responsabilità. In realtà il mio intervento, io mi occupo di storia contemporanea, come avete sentito, quindi di storia politica e latamente socio-economica, non sono una storica dell'economia, ma certamente il piano Marshall, questo punto nodale della politica del dopoguerra in Europa varato dall'amministrazione Truman, è un punto di snodo fondamentale anche per i suoi aspetti, per la sua ricaduta sul piano politico e direi anche una ricaduta sul piano psicologico dell'immaginario collettivo. Vedremo poi al di là dei contenuti importantissimi di carattere economico e finanziario quali saranno queste forme di ricaduta. Il mio discorso è incentrato a monte del periodo che abbiamo visto nel filmato, fondamentalmente intorno al biennio 1947-1948. La guerra è finita già da due anni in Europa, ha lasciato macerie enormi, in senso lato, non macerie di costruzioni crollate, ma sistemi economici e finanziari distrutti. La vita della popolazione civile, colpita dai mani ai bombardamenti, è stata letteralmente stravolta. Tutti i paesi europei sono alle prese con un problema di ricostruire le principali coordinate della vita economica e sociale collettiva e naturalmente di riavviare anche i sistemi politici. Per l'Italia il problema è tanto più importante perché questa nuova fase politica avviene dopo sostanzialmente vent'anni di fascismo fatto salvo il biennio 1943-1945 e dal 1946 gli italiani hanno optato per la forma istituzionale repubblicana e quindi la monarchia non c'è più in Italia. In Italia il problema del dopoguerra presenta aspetti particolarmente critici perché l'Italia continuerà a vivere dopo la fine della guerra in un clima praticamente bellico nel senso del prezzo politico del pane, il razionamento, cioè tutte quelle restrizioni, quei sacrifici, quei contingentamenti che avevano caratterizzato la fase bellica continuano per un certo periodo anche nel dopoguerra. Nel 1947 si è ormai in Italia consumata, letteralmente sgretolata, sgretolato quello spirito di coesione antifascista che aveva ispirato i primi governi dopo la liberazione, dopo il 25 aprile del 1945. Sulla scorta dello slancio comune contro il nazifascismo del periodo 1943-1945 tutti i partiti politici che erano rinati dal 1942-1943 in poi avevano assunto un impegno comune, ricostruire le basi di un sistema democratico democratico optando anche per forme di giustizia sociale, riforme economiche, strutturali profonde ma l'evoluzione del sistema internazionale a cui accenerò tra poco e anche l'emergere di contrasti profondi fra le forze politiche e inconciliabili aveva piano piano eroso questo clima di coalizione che ancora regnava per il momento al governo. Siamo in presenza dei governi de Gasperi, una lunga serie dei governi de Gasperi tenuti da questo importante personaggio statista della democrazia cristiana e le operazioni però di ricostruzione, i meccanismi di ricostruzione dell'economia nazionale si presentano particolarmente difficili. Perché? Perché l'Italia è un paese prostrato non tanto dal punto di vista del sistema industriale che è stato solo parzialmente distrutto in una percentuale tutto sommato accettabile rispetto all'enormità dei danni della guerra ma presenta gravissimi problemi dal punto di vista delle infrastrutture, ponti, strade, ferrovie distrutte, ospedali, scuole naturalmente i bombardamenti avevano anche depauperato il patrimonio edilizio abitativo del paese I problemi sono numerosissimi. Al tempo stesso riavviare un sistema sano, economico, produttivo soprattutto per quanto riguarda le industrie che erano sostanzialmente in grado quasi subito di riprendere la loro attività era bloccata questa possibilità dalla mancanza di materie prime era un elemento fondamentale diciamo e quindi in questo periodo fra il 45 e il 46 e il 47 è di necessità per il governo italiano tenuto da De Gasperi chiedere aiuti continuare a sollecitare gli Stati Uniti in particolare per ricevere aiuti straordinari Piani di aiuto all'Italia erano stati forniti in modo massiccio anche dal 43 in poi attraverso una organizzazione che faceva capo alle Nazioni Unite, l'UNRRA ma che vedeva la partecipazione maggioritaria proprio degli Stati Uniti aiuti in alimentari, beni alimentari, generi di prima necessità, macchinari e materie prime ma l'UNRRA sarà operativa sostanzialmente fino al 47, alla metà del 47 e De Gasperi si affannerà a sollecitare piani di aiuto che l'America non lesinerà, che concederà in varie ondate tuttavia dobbiamo tenere presente che in questo periodo 47-48 in Italia c'è una fortissima interconnessione dei problemi interni con gli scenari internazionali che si vanno delineando le due grandi potenze, le due superpotenze vincitrici delle potenze dell'asse quindi risolutive ai fini della conclusione del secondo conflitto mondiale cioè Stati Uniti e Unione Sovietica vanno mostrando segni di incrinamento nei loro rapporti fanno riferimento, innanzitutto questo era evidente già prima ma nello sforzo comune bellico questi aspetti erano stati un po' sottaciuti, tenuti in disparte fanno riferimento a dei sistemi di valori non solo politici ma di valori completamente diversi per quanto attiene alla democrazia, ai sistemi economici e sociali e via di scena l'Unione Sovietica c'è ancora Stalin quindi comunismo in Stato, l'Unione Sovietica è un paese particolarmente distrutto e prostrato dopo il secondo conflitto mondiale gli Stati Uniti invece escono non solo vittoriosi al pari dell'Unione Sovietica da questo enorme sforzo politico e militare che hanno condotto ma con un'economia sanissima direi iperbolicamente sana, molto rafforzata che viaggia a ritmi fantastici anche in conseguenza del surplus di attività produttiva industriale che lo sforzo bellico ha richiesto. Dunque i primi segni di frattura che vengono ancora contenuti sotto l'amministrazione Truman Truman è il presidente che è subentrato al mitico Franklin Delano Roosevelt nel 1945 poco prima della fine definitiva del conflitto in questa fase l'America è pienamente consapevole del nuovo ruolo che le spetta a livello mondiale la sua nuova posizione non solo di una potenza democratica e militare di straordinaria portata ma anche dal punto di vista economico una superpotenza non soltanto sul piano strategico quindi la preoccupazione che grava sull'America che ha avuto un ruolo così risolutivo nella liberazione dell'Europa dal nazifascismo è che il comunismo possa diffondersi come una piaga tale lo considera gli Stati Uniti, una piaga irrefrenabile e possa affermarsi in Europa anche perché in Europa insistono due partiti comunisti fortissimi sono il partito comunista italiano e il partito comunista francese e quindi l'influenza di Mosca su questi paesi potrebbe orientare e far evolvere la situazione politica nei rispettivi paesi in modo diciamo veramente preoccupante l'anticomunismo americano è un dato di fatto diciamo del sistema democratico, liberal democratico degli Stati Uniti, delle sue istituzioni e della sua lunga tradizione democratica tuttavia in Europa il vero ostacolo che gli Stati Uniti vedono a una ricostruzione sulla base di valori autenticamente democratici come li intendono loro è la situazione economica è il disastro, la depressione, la crisi sociale che accompagna la crisi economica questi processi di ricostruzione post bellica che vanno abbastanza a rilento in modo affannoso anche in Italia tra il 46 e il 47 e allora l'amministrazione Truman è attraverso una concertazione di criteri e di linee direttive che confluiranno in questo famoso discorso fatto il 5 giugno del 47 all'università di Harvard da parte del segretario di stato americano George Marshall penseranno di lanciare un ponte diciamo, lanciare una possibilità all'Europa di sviluppare maggiormente il proprio sforzo ricostruttivo attraverso un massiccio piano di aiuti multilaterale che si chiamerà piano Marshall, assume piano Marshall dal nome del segretario di stato che in questo discorso enuncia i criteri direttivi del piano qual è la filosofia di fondo del piano è che laddove non c'è un'economia sana un'economia che sottragga la popolazione al bisogno la tentazione di aderire a movimenti sovversivi, a ideologie di stampo comunista può essere pericolosamente più forte allora questo piano Marshall viene lanciato diciamo all'attenzione dei governi europei secondo un rischio calcolato in realtà il piano Marshall di aiuti è proposto sostanzialmente anche all'Unione Sovietica che naturalmente vedrà in questo piano Marshall in realtà ERP European Recovery Program questo è il nome diciamo tecnico l'Unione Sovietica vedrà un tentativo di ingerenza di tipo capitalistico, imperialistico degli Stati Uniti nella politica e nell'economia europea e naturalmente rifiuterà di aderire a questo piano Marshall e farà in modo che anche due paesi come la Polonia e la Cecoslovacchia che avrebbero voluto usufruire di questi aiuti rinuncino agli stessi tutto questo avviene nel giugno del 47 nel luglio l'Italia parteciperà a una conferenza indetta a Parigi dove verranno enunciate diciamo le volontà dei vari paesi di aderire o meno a questo piano Marshall di usufruirne e l'Italia sarà tra i 16 paesi che accettano di usufruire di questo piano il piano avrà una durata quadriennale dal 48 al 52 anche se nello scorcio verso la fine di questo periodo il fatto che fosse scoppiata nel frattempo la guerra in Corea e via dicendo porteranno a una riduzione dell'impegno finanziario degli Stati Uniti e per indirizzare una parte di queste risorse a usi militari evidentemente ma il lancio del piano Marshall diventa anche un argomento di dibattito l'adesione dell'Italia al panorama un argomento di dibattito sulla scena politica interna italiana le sinistre vedono una forma di asservimento dell'Italia alle logiche espansive degli Stati Uniti espansive dal punto di vista politico non soltanto economico evidentemente e quindi le sinistre saranno non subito ma presto fieri avversari di questo piano in realtà il piano va ad aggiungersi a questi massicci aiuti che l'Italia aveva già ottenuto dagli Stati Uniti negli anni della guerra e nei primissimi anni del dopoguerra l'Italia sarà il terzo paese beneficiario di questi aiuti in modo più massiccio ne usufruiranno la Gran Bretagna e la Francia l'Italia sarà la terza e sarà grosso modo alla pari della Germania federale, della Germania ovest diciamo la Repubblica federale tedesca come funzionava questo piano e qual era anche la sua importanza politico strategica perché non è una forma di beneficenza questo piano questo piano risponde anche a un'esigenza profondamente avvertita dagli Stati Uniti di avere nell'Europa un mercato di sbocco affidabile per la propria produzione, per le proprie merci avere un partner verso il quale orientare le forze la produzione americana e quindi non rischiare come era successo in occasione del grande crollo del 29 della crisi mondiale del 29 di Wall Street non rischiare crisi di sovrapproduzione cioè non rischiare di avere una produzione eccedente rispetto alla possibilità di piazzarla su altri mercati un equilibrato sviluppo dell'Europa quindi doveva servire anche a questo e poi era una forma anche di esportazione di un concetto di economia che doveva essere indirizzato verso il benessere collettivo verso l'aumento della produttività metodi di lavoro scientifici diciamo il taylorismo doveva cioè aiutare questo piano Marshall a costruire delle economie sane indipendenti basate sulla libera iniziativa e quindi dinamiche orientate al benessere all'aumento della ricchezza e possibilmente anche a una migliore distribuzione della stessa perché? Perché laddove il presupposto del discorso di Marshall c'è un eccesso di disoccupazione crisi sociale, povertà la tentazione di aderire a ideologie comuniste è molto più automatica è molto più forte il funzionamento è un funzionamento del piano Marshall abbastanza tecnico ma comunque sostanzialmente lo banalizzo per brevità non consisteva nel trasferire denaro, dollari no, innanzitutto era basato su due pilastri due assi portanti in primo luogo la richiesta di beni e macchinari che dovevano essere richiesti acquistati sul mercato internazionale sul mercato statunitense e trasferiti ai paesi che ne facevano richiesta tutti i paesi aderenti al piano Marshall dovevano sviluppare un piano quadriennale di utilizzo di questi aiuti piano quadriennale quindi di media gittata e poi però ogni anno diciamo formulare un piano operativo che veniva sottoposto all'analisi delle autorità statunitensi c'era poi un trasferimento di beni che venivano venduti sui mercati nazionali ciò che veniva incamerato in valuta nazionale per esempio nell'Italia in lire veniva a confluire in un cosiddetto fondo di contropartita che poteva essere utilizzato per impieghi produttivi investimenti e quant'altro era un meccanismo fortemente controllato dagli Stati Uniti gli Stati Uniti impiantarono uffici in tutti i paesi con ispettori con un rigido e severo legittimo sistema di controllo molto serrato sull'utilizzo di questi beni e praticamente questo piano Marshall si incastrò si incuneò con le linee di politica economica che ciascun paese stava adottando in quel periodo per quanto riguarda il 4748 in Italia oltre allo sgretolamento della solidarietà antifascista voglio ricordare che anche su pressione statunitense De Gasperi nel maggio del 47 decide di estromettere le sinistre dal governo dopo una crisi del suo terzo governo socialisti e comunisti vengono estromessi dal governo il quarto governo De Gasperi non vedrà più la presenza delle sinistre questo era un fatto ampiamente auspicato e sollecitato anche dalle autorità americane e di lì a poco verrà varato un piano diciamo una linea di politica economica molto dura che si chiamerà linea Einaudi dal nome del ministro del bilancio ex governatore della Banca d'Italia Luigi Einaudi che poi diventerà anche presidente della Repubblica la linea Einaudi prevedeva una forte restrizione del credito una serie di misure di carattere monetario molto importanti per frenare quella che era la malattia principale in quel momento dell'economia italiana o almeno così veniva interpretata dagli analisti l'inflazione un'inflazione altissima un aumento dei prezzi che è aggiunta alla indisponibilità di beni di prima necessità rendeva il paese ancora molto claudicante sul piano del risanamento economico la linea Einaudi impose delle misure molto dure la restrizione del credito come ho detto ma comportò anche attraverso la restrizione del credito la crisi di molte piccole e medie aziende e questo comportò anche una serie di licenziamenti e quindi una sofferenza anche sociale nella classe lavoratrice piuttosto forte ci sono molte discussioni fra gli storici dell'economia se la linea Einaudi sia stata utile o non utile se abbia avuto più aspetti positivi che negativi di certo fu una linea rigida che gli Stati Uniti videro con molto favore e si sentirono anche confortati da questa rigidità a proposito dell'affidabilità dell'Italia nella prossima gestione prossima perché il funzionamento del piano Mascia sarebbe entrato in vigore nella primavera dell'anno successivo 48 il 48 però in coincidenza quasi in coincidenza perfetta con l'entrata in vigore del piano Mascia l'Italia è alle prese con le sue prime elezioni politiche elezioni politiche del 18 aprile del 48 che vedranno una contrapposizione frontale di eccezionale durezza e molto ideologizzata tra la democrazia cristiana che ormai era assolutamente nell'orbita diciamo degli Stati Uniti dal punto di vista della collocazione nella sfera di valori e di obiettivi che gli Stati Uniti prevedevano per la politica europea e la contrapposizione era dicevo con il fronte popolare socialisti e comunisti in questa campagna elettorale molti messaggi degli Stati Uniti in particolare anche dello stesso Marshall un mese poco prima delle elezioni chiarirono subito che se il fronte comunista delle sinistre fronte popolare social comunista avesse vinto l'Italia poteva dimenticare gli aiuti del piano Marshall quindi è una forma diciamo chiamiamola di sollecitazione di ingerenza di condizionamento indubbiamente di un'opinione pubblica che invece soprattutto nei ceti piccolo e medio borghesi vedeva negli Stati Uniti i campioni di un sistema di benessere di equilibrio di garanzia di riacquisizione di livelli dignitosi di vita anche per gli italiani che avessero seguito le direttive e le sollecitazioni implicite nella filosofia del piano Marshall di fatto le elezioni vedono il trionfo non la vincita il trionfo del fronte della democrazia cristiana le sinistre sono risospinte in una forma di opposizione che esse stesse non avrebbero mai immaginato erano convinte di vincere e in realtà non fu così fu una solenne bocciatura questo ridette un certo fiato una certa fiducia ai ceti medi e quindi l'applicazione del piano Marshall decollò in Italia in un clima politicamente meno inquieto più tranquillizzante diciamo che uso ha fatto l'Italia degli aiuti del piano Marshall sui risultati diciamo anche qui ci sono grosse discussioni fra gli storici dell'economia in ogni caso l'Italia ha raggiunto sostanzialmente nel complesso gli obiettivi che il piano quadriennale che era stata obbligata a produrre prevedeva una buona parte degli investimenti furono dirottati verso il settore industriale comportando anche una modernizzazione degli impianti una modernizzazione delle attrezzature quasi tutte su tecnologia di tecnologia statunitense molto meno utilizzati furono i fondi destinati all'agricoltura e in effetti l'agricoltura continua molto a soffrire di investimenti anche dopo la fine del piano Marshall ci vorrà parzialmente la riforma agraria del 1950 per risolvere almeno alcuni dei problemi sollevati dalle masse contadine meridionali della lotta al latifondo un significativo impiego fu fatto anche nel campo dei servizi e delle infrastrutture il rapporto diciamo fra Italia e Stati Uniti a proposito dell'applicazione in Italia del piano Marshall non fu su tutto rose e fiori ci furono anche degli elementi di attrito di scontro per esempio con tutti gli investimenti previsti non si vide dopo il primo biennio un significativo calo della disoccupazione e questo inquietava molto gli Stati Uniti nel country study discusso di fronte al congresso americano veniva stigmatizzato questo fatto che in Italia nonostante tutto l'impegno profuso attraverso il piano Marshall la disoccupazione non era calata in modo sufficiente e perché questa preoccupazione da parte degli Stati Uniti ritornava il vecchio spettro della disoccupazione come foriera di disordini sociali e di orientamento verso partiti a ideologia comunista sostanzialmente un altro impiego significativo fu quello nel settore energetico elettricità e petrolio sostanzialmente ma noi sappiamo che all'inizio degli anni 50 va decollando anche questa importante significativa per l'Italia politica di Enrico Mattei dell'Agip la ricerca di nuove risorse petrolifere nuove perforazioni e via dicendo e in questa politica ci saranno profondi attriti con le famose grandi le sette sorelle le grandi società petrolifere a livello mondiale e quindi anche sul piano energetico ci sarà qualche attrito di troppo tra Italia e Stati Uniti ecco io credo di aver dato diciamo una impressione abbastanza sommaria ma forse sufficiente nell'economia dell'incontro di oggi di quello che ha significato il piano Marshall non voglio però trascurare di sottolineare due aspetti che il piano Marshall è già un punto di non ritorno dell'inserimento dell'Italia nella logica dell'alleanza atlantica cioè della 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 sfera di influenza degli Stati Uniti destinata a consolidarsi successivamente con altre scelte molto decisivo in campo di alleanze militari eccetera eccetera ma sicuramente è un punto di non ritorno un secondo aspetto è che il piano Marshall secondo alcuni studiosi è stato fatto anche da come dire levatrice di levatrice del futuro della futura Europa del sistema europeistico diciamo questa presenza degli Stati Uniti in Europa in questi anni già ben consolidata in questi anni e destinata a rafforzarsi ulteriormente negli anni successivi come abbiamo visto anche negli anni dell'ambasciatrice è la premessa per una per la nascita di alcune istituzioni che hanno fatto da volano poi alla costruzione successiva dell'integrazione prima economica e successivamente politica europea tanto per fare un esempio quando viene lanciato il piano Marshall nella conferenza di Parigi quando si devono raccogliere adesioni si parla anche di creare una organizzazione economica della cooperazione europea nascerà l'OECCE che poi nel 1960 si trasformerà in un altro organismo e quindi si gettano le basi di una collaborazione di una concertazione delle politiche economiche dei paesi europei addirittura più tardi nel 51 lascerà la cieca la comunità europea del carbone e dell'acciaio che sono tutti tasselli importantissimi della preistoria di questo processo di integrazione europea quindi un primo passo si deve proprio a questo piano Marshall io vi ringrazio spero di non avervi annoiato grazie io ce l'ho grazie ringraziamo la professoressa Silvana Gasmir ricordo professore ordinario di storia contemporanea presso questa università quindi abbiamo sentito insomma questo impatto così forte anche dal punto di vista simbolico abbiamo sentito nell'immaginario nell'immaginario anche degli europei insomma e degli italiani in particolar modo gli aiuti costituirono una promessa di benessere oppure di sicurezza adesso invece passo la parola a John Fanti che è vicepresidente dell'American Chamber of Commerce cioè la Camera di Commercio americana in Italia ed è un grosso personaggio credetemi laureato a Stanford quindi abbiamo avuto il piacere di averlo oggi con noi ci racconterà un po' delle cose che si adesso vi puoi grazie se no puoi fare questo mi grazie pronto mi sentite buongiorno a tutti non sono un accademico e ne uno storico quindi non vi darò troppi dati ma pensavo mi hanno chiesto e ho accettato volentieri l'invito di Giorgio Bartonomucci di venire a incontrarvi e darvi magari alcuni dati sull'importanza dell'interscambio commerciale con gli Stati Uniti e i rapporti economici e magari callarlo un po' anche nella realtà anche personale domande andrò a braccio darò dei dispunti poi se avete delle domande sarò ben dietro c'è molto da dire cioè vabbè personalmente mi presento insomma sono imprenditore italo-americano di terza generazione già i miei nonni erano in California nel 1906 imprenditori e sono ho fatto l'università in America ho fatto ingegneria poi mi sono mantenuto gli studi da solo poi sono andato a Stanford ho avuto la borsa di studio e ho fatto economia quindi abbiamo qualcosa in comune poi ho iniziato a lavorare con la AT&T la compagnia telefonica americana e la cito perché poi vorrei citare un altro episodio quando la AT&T decide di investire in Italia e come è andata vi posso dire due parole e da quando sono in Italia con AT&T dagli anni 90 poi sono nel Consiglio dell'amministrazione della Camera di Commercio americana l'American Chamber of Commerce in Italy che è un'istituzione che è presente in Italia da 100 anni e in questo ruolo abbiamo condotto vari studi sull'attrattività del sistema economico italiano sul fatto di come attrarre i investimenti americani su quali sono gli ostacoli agli investimenti americani in Italia quindi abbiamo anche condotto vari sondaggi se avete domande in proposito vi posso spiegare qualcosa ma per darvi degli ordini di grandezza per esempio il rapporto economico tra due paesi lo si misura tra interscambio commerciale import-export e lo stock di investimenti gli investimenti produttivi che si fanno in un paese allora come interscambio commerciale con gli Stati Uniti abbiamo circa 25 miliardi di euro di interscambio commerciale di cui una ventina sono di export sono quasi 30 miliardi 20 di export e 10 di import quindi noi abbiamo un saldo attivo di interscambio commerciale con gli Stati Uniti di circa 10 miliardi di euro che è il saldo attivo più alto che noi abbiamo con qualsiasi altro paese incluso Germania Francia o altri paesi europei quindi è una relazione economica importante che non nasce per caso perché poi vorrei anche dirvi di un dato che forse spesso dimenticato che in America abbiamo 25 milioni di americani che si ricollegano alle radici italiane che sono figli di seconda terza generazione di italiani pensate mezza Italia abbiamo in America potenzialmente poi ovviamente sono americani e ogni generazione che passa ogni decennio che passa sono un pochettino meno italiani e non si ricordano più tanti non parlano più non parlano più la lingua e quindi questo poi vorrei anche mandare un auspicio per dire le istituzioni italiane dovrebbero forse far di più per tenere stretti a noi questo patrimonio che abbiamo di rapporti umani commerciali culturali ed economici come diceva prima il rettore diceva il ricordo dei giovani di essere alimentato non solo in Italia ma forse ricordiamoci anche dei nostri figli di emigranti che sono negli Stati Uniti di cui io sono terza generazione allora poi dicevo il rapporto commerciale tra due paesi è l'interscambio commerciale e lo stock di investimenti allora nello stock di investimenti stranieri in Italia l'Italia è l'ultimo paese europeo ma anche del paese Oxe dei 40 pesi Oxe siamo ultimi ce la giocavamo ultimo penultimo con la Grecia è una cosa disastrosa il perché c'è mille motivi la burocrazia italiana la percezione che poi un po' è realtà un po' è percezione ma sta a noi anche cambiare la percezione perché se uno ha una percezione sbagliata dimostriamo che non è vero quando dicono ah ma in Italia le tasse sono troppo alte magari un po' è vero la flessibilità del lavoro non puoi licenziare magari non è più vero e però la percezione è da fuori e quindi in Italia non si investe ciò nonostante gli Stati Uniti sono il primo paese che rispetto relativamente ad altri paesi europei il primo paese come investimento in Italia per dire e quando si parla di investire in un paese si parla di dare fiducia ad un paese perché l'intescambio commerciale in fondo lo si può fare con chiunque si può avere un export all'ultimo paese africano per dare un esempio di un paese lontano ma quando si decide di investire bisogna avere fiducia nel paese e gli Stati Uniti i numeri ci dicono danno più fiducia all'Italia che non la dà per esempio alla grande blasonata Germania Francia i nostri partner europei poi faccio uno spunto polemico sull'Europa e sui partner europei però al di là del concetto teorico utopistico bello dell'Europa e di cui siamo parte però poi nei fatti i singoli paesi europei forse ci hanno dato negli anni meno fiducia magari degli Stati Uniti quindi poi darò alcuni casi concreti in cui nel nome di magari partnership strategiche europee si sono penalizzate magari partnership con aziende americane di cui una facevo parte e che poi alla fine ha prodotto forse un danno per la nostra occupazione quindi detto ciò ecco sì ecco quindi questi due dati il saldo attivo import-export più alto di qualsiasi altro paese con gli Stati Uniti e il fatto che siano il primo paese investitore in Italia sono due dati che noi dovremmo tenerci stretto e cercare di far crescere c'è un potenziale enorme di crescita per le nostre esportazioni per i nostri investimenti e per attrarre investimenti americani in Italia ecco mi auguro che la nostra classe dirigente possa far di più e cercare di promuovere questo questo rapporto ricordiamoci appunto questo legame storico-culturale con gli Stati Uniti e quindi io direi potrei darvi tanti altri numeri sugli insediamenti produttivi anche qui a Latina recentemente aziende americane hanno investito la Ayanza ha preso la Plasmon ha fatto cento di ricerche mondiali cioè investimenti di valore aggiunto un episodio per esempio dell'AT&T l'azienda per cui lavoravo l'AT&T negli anni 90 cerca un partner europeo per fare un'alleanza strategica internazionale quello è negli anni in cui la Telecom Italia si doveva privatizzare non so se voi siete giovani non vi ricordate ma la Telecom Italia era statale si doveva privatizzare si ha creato il nocciolo duro lo chiamavano il nocciolo duro volevano un partner industriale che investisse e diventasse il partner mondiale guarda caso l'AT&T era interessata per la prima volta nella sua storia l'AT&T ha scelto di investire in un paese non americano la prima volta nella sua storia l'AT&T era il monopolio delle telecomunicazioni americane immaginate la Telecom Italia per tutta l'Europa era un milione di dipendenti io lavoravo per loro sono venuto in Italia negli ultimi anni ero l'amministratore legato alla TT Italia riusciamo a fare questa alleanza 400 milioni di dollari di investimento per l'1% ma eravamo il partner industriale quindi pronti a partire ancora non firmato l'accordo sono cominciati i sei ma sì ma noi siamo europei ci vuole l'accordo col partner europeo la Deutsche Telekom la Deutsche Telekom ha appena fatto l'alleanza con la Franz Telekom quindi un asse franco tedesco Prodi rappresenta il consiglio molto europeista totale alla fine con l'AT&T non si è chiuso alla fine con Deutsche Telekom non si è chiuso hanno arrivato con la Ninno privatizzato con un sacco di debiti ed è stata proprio l'inizio del declino della povera Telecom Italia che a livello di lastrico è stata data agli spagnoli adesso per poco cronaca di questi giorni allora io messaggio che vi là con cui vi voglio lasciare si benvengono i rapporti europei siamo europei però per favore non facciamo la danno di un rapporto storico economico culturale etnico direi con gli Stati Uniti che hanno sempre dimostrato negli anni di forse avere più stima e affetto sempre nell'ambito di ognuno tra i propri interessi però più stima e affetto dell'Italia che la mia opinione personale che non ho visto io nei tedeschi e nei francesi che guarda caso in questi giorni in ottica di elezioni europee si parla molto di euro di Europa in modo scettico bene io l'ho vissuta vent'anni fa forse dovevamo essere più attenti allora quando siamo entrati a occhi chiusi in quest'euro in quest'Europa eccetera l'ultimo dato storia di questi mesi è anche il patto transatlantico che stiamo firmando con gli Stati Uniti come Europa benvenga si parla di avete sentito si parla di eliminare le barriere già ce ne sono molto meno che in passato ma ci sono ancora dei dazzi alle importazioni e esportazioni benvenga io dico soltanto attenti non è che ci facciamo trovare impreparati come ci siamo fatti trovare impreparati quando la Cina è entrata nel WTO e si è aperto tutto il mercato le nostre aziende che producevano in modo magari meno efficiente e produttivo si sono trovate tutte sull'astrico e adesso stiamo recriminando l'euro che è nato in coincidenza con l'entrata in vigore del WTO e si è preso tutte le colpe l'euro ma forse anche questa globalizzazione così bella aperta favorisce l'azienda più produttiva e penalizza e fa chiudere quella che non è produttiva adesso stiamo facendo una cosa simile con gli Stati Uniti Europa e Stati Uniti abolizione di tutte le barriere apertura benissimo opportunità di esportare attenti non farsi trovare impreparati quindi morale cerchiamo di darsi una sveglia aumentare la produttività e poi tutta l'agenda dei vostri giorni che leggete sui giornali tutti i giorni però in quest'ottica di rapporto bilaterale c'è da dire anche questo signori ho fatto un escursus veloce se avete delle domande grazie c'è qualche qualcuno voi siete studenti di economia c'è qualcuno che può fare qualche domanda aggiunfanti sì no volevo solo sapere se c'era qualcuno che voleva fare qualche domanda si sente se ti alzi però forse sentiamo di più i tassi di cambio tra le monete non sono colpa certamente il dollaro così come hanno fatto i giapponesi con lo yen è gestito da una banca centrale americana che è molto più aggressiva nello stampare moneta anche a costo di causare inflazione questo ha depreciato un po' più il dollaro che in questo caso può penalizzare i tassi di cambio e quindi le esportazioni con l'Europa ma allora che fare anche lì tutti dicono Draghi dovrebbe stampare più moneta ma i tedeschi non lo vogliono e quindi siamo in una diatriba europea che non funziona però sì però se il dollaro dovesse essere più forte noi esporteremo un po' di più verso gli Stati Uniti ma poi ci ritroviamo tutte le materie prime che dobbiamo importare pagate in dollari e quindi abbiamo poi un problema dall'altra parte di terreno minato bene non so chi sei però va bene buona domanda buona domanda adesso buona domanda sentiamo allora dottor Lucio Martina adesso passa la parola che ricordo politico centro arti studi per la difesa a caso allora è un'analista molto attento grazie allora ricordo intanto che intanto vorrei ringraziare l'organizzazione di questo incontro perché mi ha dato la possibilità dopo 15 anni che mi occupo di affari politici correnti e tengo a sottolineare che tutto quello che sto per dire qui è soltanto mia opinione in nessun modo coinvolge la difesa di cui sono consulente ma non faccio parte del ministro della difesa ne lo rappresento nelle mie idee dicevo vorrei ringraziare per l'opportunità che mi è stata concessa oggi dopo 15 anni che mi occupo di affari politici correnti di ritornare a riflettere su una cosa per me intimamente importante quanto questi 40 anni che sono conosciuti con il termine di guerra fredda io vedo che siete tutti quanti molto giovani quindi sono pronta a scommettere che voi siete nati dopo la fine della guerra fredda e mi incuriosisce pure a cercare di capire quella che è la percezione di una nuova generazione nei confronti di uno dei momenti della storia occidentale io vorrei dire in assoluto forse il più importante se non uno dei più importanti perché è un momento nel quale più di una volta siamo andati vicino a una crisi che poteva anche cambiare per sempre quello che era l'aspetto della civiltà occidentale ora io ho l'onere di parlare per ultimo subito prima del pranzo dopo che tanto è stato già detto e mi chiedo che cosa posso aggiungere mi piacerebbe chiedervi quanti di voi hanno familiarità con una vecchia frase latina che è cartago dell'enda est c'è nessuno che sa il significato che si ricorda la situazione storica vedo che si alzano tante mani dal pubblico e sto pensando a cartago dell'enda est perché l'idea che alla fine della seconda guerra mondiale una soluzione tipo quella che gli antichi romani scelsero per cartagine fosse fuori dalle opzioni nei confronti della Germania e dei paesi dell'asse è sbagliata quando parliamo di piano Marshall e della decisione di arrivare a piano Marshall dobbiamo renderci conto che per un breve momento ancora all'interno dell'amministrazione Roosevelt si pensò nei confronti dei paesi dell'asse nei confronti dei quali si era combattuta una guerra che doveva finire con nient'altro se non una resa totale di una soluzione analoga a quella pensata dai romani per cartagine ed è una cosa che passa con il nome di piano Morgentau Henry Morgentau era il segretario del tesoro dell'amministrazione Roosevelt e la soluzione per la Germania proposta da Morgentau era quella della pastorizzazione della Germania che doveva essere divisa in tre territori non doveva mai essere più rionificata gli impianti industriali tedeschi dovevano essere smontati e portati altrove tutta la popolazione tedesca con un minimo di preparazione culturale ingegneristica tecnica doveva essere deportata in altri paesi il futuro della Germania semplicemente non doveva esserci più nessuno avrebbe mai più dovuto parlare di uno stato tedesco e di una potenza tedesca quello che rimaneva dei territori che allora erano conosciuti come Germania doveva essere una distesa dedicata alla pastorizia questo si era già visto nella storia dicevo forse l'esempio più palese è quello di Cartagine quello che non si era mai visto fu invece una decisione motivata sulle basi che la professoressa ci ha annunciato di compensare qualcuno che era stato sconfitto in guerra questo è il piano Marshall di compensare delle potenze che avevano combattuto una guerra il cui bilancio si contava non in decine o in migliaia di uomini come le guerre degli ultimi anni pensate che dieci anni di guerra tra Iraq e Afghanistan sono costati qualcosa come 5 mila morti 10-20 mila feriti il bilancio umano della seconda guerra mondiale si misura in milioni di morti nonostante questo il piano Marshall fu la decisione di premiare nei modi nei quali era possibile per quanto era possibile gli sconfitti però questo succedeva da una parte dall'altra parte oltre Cortina come disse l'allora primo ministro britannico Churchill invece era calata una barriera dietro la quale le popolazioni catturate diciamo così liberate dai nazisti ma catturate dai sovietici attraversavano un destino ben diverso da quello che invece stava attraversando l'Europa occidentale ora io non ho difficoltà a dirvi il momento preciso in cui finisce la guerra fredda e proprio per questo sono convinto che tutti voi siete nati dopo la fine della guerra fredda non è così semplice decidere esattamente il momento in cui comincia la guerra fredda a me piace ma è una cosa completamente arbitraria prendermela con la dottrina Truman del marzo del 1947 l'allora presidente l'allora presidente Truman decide che politica ed è interesse degli Stati Uniti difendere tutti i popoli che rischiano di finire sotto un'oppressione un'oppressione non democratica voluta sia da minoranze armate che da ingerenze straniere se avete un minimo di interesse vado un po' fuori tema potrei dire quando finisce la guerra fredda e io credo che il momento in cui la guerra fredda finisce oltre ogni dubbio è precisamente il 16 luglio del 1990 quando in una cittadina di provincia ucraina dove era nato l'ultimo segretario generale del partito comunista sovietico che voi tutti conoscete penso Gorbaciov lo stesso Gorbaciov annuncia che è politica dell'Unione Sovietica per mettere la riunificazione tedesca dentro la Nato se questo è il desiderio della Germania e vi ricordo che la Germania si riunifica e firma un trattato di pace da lì a poche settimane il 3 ottobre del 1990 ora abbiamo questo periodo che va dal 47 al 1990 oltre 40 anni di attrito tra due blocchi ma non solo di attrito ci sono anche dei momenti di partnership ci sono momenti di alta tensione ci sono momenti di dialogo definiti da un meccanismo e questo meccanismo è conosciuto come il meccanismo del containment e questa è un'altra caratteristica che mi piace in questi pochi minuti che abbiamo a disposizione perché certamente non mi posso mettere a fare una storia della guerra fredda in questo momento in questo posto ma un'altra delle caratteristiche interessanti della guerra fredda è l'uso di parole chiave che evocano intere strategie evitano interi momenti politiche evocano drammi e il periodo che va dal 53 al 56 è un periodo ricco di drammi è un periodo ricco di speranze da un certo punto di vista prima si parlava nel video della morte di uno che si chiamava Stalin non so quanti di voi hanno idea che cosa abbia rappresentato per l'Unione Sovietica e per il resto del mondo Stalin che muore nel marzo del 1953 muore poche settimane dopo l'arrivo alla Casa Bianca di un ex generale americano che aveva guidato le forze armate americane avevano guidato la campagna europea durante la seconda guerra mondiale che si chiamava Eisenhower Eisenhower arriva alla Casa Bianca con una visione del containment critica dovrei accennare due parole su quello che era il containment all'inizio della guerra fredda nel momento in cui gli Stati Uniti si rendono conto che l'Unione Sovietica non smobilita che la cortina di ferro non viene ritirata e che il futuro della Germania della Polonia degli altri paesi dell'Europa orientale non è un futuro che dipende soltanto dalle volontà dei popoli di questi paesi si apre un breve dibattito che viene chiuso dall'intervento di un diplomatico americano che passa la storia con il nome di Kennan in base alla quale la strategia migliore da adottare nei confronti dell'Unione Sovietica non era quella di un attacco frontale immediato ma di un lento contenimento che aveva un valore politico che avrebbe dovuto avere un valore economico che poteva durare a lungo nel tempo ma evitare un conflitto frontale immediato le elezioni del 1952 portano alla Casa Bianca un partito repubblicano che muove da posizioni critiche che ritiene il containment costoso ne vede un alto prezzo anche morale perché tutto sommato condanna comunque entere popolazioni sotto l'oppressione sovietica cerca nuove strade per arrivare ad un'altra parola chiave della guerra fredda roll back credo che non ci sia bisogno di tradurla dall'inglese ricacciare i sovietici a casa liberare l'Europa orientale succede davvero questo? no dicevamo non succede fino al 1989 non succede fino al 1990 però intanto succedono delle cose cambia la strategia americana nei confronti dell'unione sovietica nel 1953-1956 cioè si passa da una visione che era stata identificata in un documento conosciuto come National Security Council Doctrine numero 68 in base alla quale gli Stati Uniti dovevano spendere pensate qualcosa come più del 20% del prodotto interno lordo per le spese militari ad una strategia di risposta massiccia nucleare nella quale dal 1953 in avanti la visione strategica americana era di puntare soprattutto sull'uso delle armi nucleari per bilanciare qualsiasi mossa sovietica in giro per il mondo cosa che metteva l'amministrazione Senna guardivo con te una scelta che oscillava tra il non far niente e il far tutto usare le armi nucleari in quello che sarebbe stato uno scambio privo di precedenti e in questo quadro che cosa succede? succede che Berlino che già si era distinta come uno dei primi momenti drammatici della storia della guerra fredda nel 1948 attraversa una nuova fase acuta nell'autunno del 1953 quando le insurrezioni popolari nella Berlino sotto controllo sovietico vengono risolte con l'uso della forza e disperse nel sangue sono anni in cui abbiamo da una parte la fine della guerra di Corea ma dall'altra una crescente instabilità in Polonia che porta poi a quella che è un'avventura conosciuta come l'epoca di Komulka che rappresenta un momento nel quale la Polonia arriva vicina ad uno scontro con l'Unione Sovietica che poi si risolve con un compromesso stesso destino così fortunato non si avrà nel 1956 invece in Ungheria dove il desiderio di liberarsi e di emanciparsi dall'Unione Sovietica si risolve in un altro bagno di sangue porta a un momento particolare sempre la guerra fredda del 1953 e del 1956 che è quello conosciuto come la destanalizzazione e cioè che cosa succede in questi anni che Stalin vi dicevo muore nel marzo del 1953 e bisogna aspettare un paio d'anni perché nel congresso il ventesimo del partito comunista sovietico quello che poi ne diviene il successore è Khrushchev ne denuncia i crimini solo che vi dicevo poi la delusione enorme nel momento in cui nel 1956 si è stisso nei fatti di Ungheria guardate il 1956 uno di quei momenti in cui la guerra fredda poteva diventare calda quando nel novembre del 1956 le truppe russa entrano a Budapest era ancora possibile immaginare l'ingresso dalla parte occidentale di truppe americane non succede e non succede con le conseguenze che vi dicevo prima ma non succede che la guerra fredda diventa calda in quel momento con uno scontro che poteva essere delle conseguenze ancora più distruttive di quanto è stata la seconda guerra mondiale per l'intera Europa e forse per il resto del mondo sono questi gli anni in cui da una parte si decide l'ennesimo diciamo si decide l'esatto contrario di quanto desiderava Morgentau cioè il ritorno della Germania che nel 1954 si ritrova autorizzata ad avere di nuovo un esercito nazionale una Germania che nel 1955 viene inserita nella Nato rendendo dal 1955 in avanti concepibile una difesa dell'Europa in Europa una difesa dell'Europa attraverso non più armi nucleari ma sistemi simmetrici convenzionali in Europa che poi è una storia che si sviluppa negli anni 60 con altre vicende sono gli anni dell'istituzione da parte sovietica del patto di Varsavia che porta tutti gli eserciti dei paesi dell'Europa orientale sotto il controllo diretto dello Stato Maggiore sovietico stringendo ancora di più la cortina di ferro sull'Europa orientale sono gli anni che poi si chiudono con una speranza e qui vorrei chiudere questo intervento lasciando spazio per le vostre domande se ce ne saranno che è la speranza che si apre proprio a Roma nel 1957 con i trattati di Roma per l'Unione Europea per la comunità scusate per la comunità economica europea che è uno dei momenti nei quali ci si lascia veramente alle spalle l'eredità della seconda guerra mondiale e del periodico riaccendersi dei conflitti europei io vi ringrazierei e mi fermerei qua grazie c'è qualcuno di voi che vuole fare qualche domanda? ecco ti chiami? grazie a tutti sì è vero la forza dell'economia italiana sono piccole e medie imprese e queste magari sendo piccole sta dicendo non possono attrare grandi investimenti però ci sono anche ciò che favorisce l'attrazione di un investimento è un clima poi gli investimenti possono anche essere cosiddetti green field dove non esiste un impianto e se ne costruisce uno nuovo perché c'è la forza lavoro qualificata ci sono giovani che magari parlano inglese e che sono bravi ingegneri e c'è una buona forte disoccupazione come in Italia e tante risorse e questo è di interesse ad aziende che vogliono investire quindi la forza intellettuale di un paese e poi la burocrazia e poi dopo le tasse e poi la legge lo stato di diritto gli americans dicono sempre gli americani il rule of law cioè posso far vantare posso aver giustizia di un contratto che magari firmato e non onorato dalla controparte si sente parlare di dieci anni per avere le sentenze definitive in Italia questo è un grande deterrente quindi ci sono tanti problemi che noi sappiamo già ma ormai lo sanno anche fuori dall'Italia di positivo posso citare un piccolo esempio del sondaggio che avevamo fatto a tante aziende americane che consideravano di investire in Italia come la scama di commercio americana mi ha fatto un sondaggio e mi hanno detto vorresti investire in Italia sì no perché allora sono venuti fuori dei problemi una lista di problemi quelli che dicevamo la burocrazia e la giustizia eccetera anche nel sud magari la sicurezza la criminalità e quant'altro poi è stata fatta le stesse domande sono state fatte ai dirigenti di aziende americane che hanno deciso di investire in Italia che sono presenti in Italia e guarda caso fatta la domanda di dire ma quello che hai trovato è peggio o meglio di quello che ti aspettavi e in molti casi era sempre meglio di quello che si aspettava no dico no pensavo peggio e questo è un dato positivo che vuol dire che poi alla fine le aziende che ci sono almeno adesso quello prima questo sondaggio era 4-5 anni fa negli ultimi 4-5 anni la situazione è peggiorata della crisi economica però il dato positivo è che c'è un problema anche di percezione e quindi bisogna lavorare anche su quello andare a spiegare dove dove si pensa che la cosa magari ah in Italia c'è la mafia ma dove cioè parla un attimo calmo andiamo a vedere poi non è vero magari le aziende magari vengono e non c'è problema oppure la giustizia magari sì quella è indifendibile per quanto mi riguarda la lentezza i pagamenti però ecco è importante anche lavorare sulla percezione per attrarre gli investimenti che poi hanno voglia di venire e io dico dall'America più che da altri paesi europei questa è la mia esperienza grazie qualcun altro? qualcun altro? sì dimmi ti devi alzare perché se no fa ego capito dai sicuramente si può sempre fare di più so che Simest Sace Lice tutto come adesso sono attive nel cercare di promuovere le esportazioni di Italia all'estero e stanno facendo anche un buon lavoro perché l'Italia è un paese che esporta molto verso gli Stati Uniti abbiamo un disavanzo attivo ecco il problema più grosso è quello di attrarre investimenti in Italia perché lì di creare un'atmosfera di creare un'atmosfera un clima favorevole ma benvenga quello che fa appunto il credito alle imprese della Simest eccetera ma ci sarebbe forse di più poi non conosco bene ma so che l'Italia è tra i paesi che investe meno all'estero quindi esporta di più ma investe meno forse è questione anche di risorse abbiamo crisi però guardiamo anche i soldi che si sprecano in Italia i soldi se ne sono tanti se ne sprecano tanti forse investirli meglio nei settori che possono produrre posti di lavoro va bene? Qualcun altro? no? passo la parola a mio amico Giorgio Bartolomucci è un mio vecchio amico e con lui che abbiamo ideato questo convegno diciamo ed ecco lui aspetta perché voglio dire qualcosa a questi giovani per quello che andremo a fare da settembre in poi se ce lo fanno fare inviteremo avremo nel nostro partere in questa università tutte le diplomazie del mondo tutte ogni mese questo è un incontro che faremo questa è la nostra idea la stiamo portando avanti perché lui è il segretario generale di un festival importantissimo che si tiene sia a Roma che a Spoleto si chiama il festival della diplomazia insieme siamo a Bruxelles nelle Apo europee è un'associazione press office con sede a Bruxelles dei giornalisti e lui è un socio come me allora prego grazie Tommaso io veramente 30 secondi proprio per dirvi che quest'anno il festival si tiene fra il 22 e il 31 di ottobre ed è un festival che in 8 giorni ha all'incirca 40 eventi molti dei quali sono dedicati proprio alle relazioni commerciali e relazioni fra paesi quest'anno avremo sessioni all'interno dell'ambasciata brasiliana messicana cinese tedesca quindi e iraniana quindi siete sicuramente invitati a venire perché il festival è aperto e metteremo anche a disposizione dell'università una serie di borze di partecipazione per poter ospitare eventualmente un certo numero di studenti che vengono da Cassino voglio chiudere per dire che il festival nasce all'interno di un concetto che oggi è stato soltanto accennato e che è poi secondo me uno degli aspetti forti della figura e dell'azione della Claire Boff Luce che è quello del soft power che è un concetto molto moderno se volete un concetto che in qualche maniera sta a indicare ed è forse questo molto importante perché ci riporta al discorso dell'Italia e dell'attrattività che cos'è il soft power così come lo definisce in termini generali NIE credo che la pronuncia sia buona dell'università di Harvard cioè proprio la capacità che ha uno stato di raggiungere i suoi scopi anche di natura commerciale se volete influenzando i comportamenti degli altri paesi non con la minaccia della forza militare oppure con la forza economica gli aiuti gli investimenti ma attraendoli con la propria cultura con i propri ideali politici e con i propri valori in qualche maniera se volete che cosa è il soft power in termini pratici in termini pratici è per esempio la musica il cinema l'arte lo sport la moda le tecnologie gli stili di vita l'enogastronomia in che maniera per esempio se voi pensate al cinema americano a Hollywood ha contribuito ad avvicinare paesi lontani a quello che è uno stile di vita che è una cultura americana così come le telenoveli sudamericane oppure i serial televisivi e pensate che cosa ha avuto come influenza nel mondo per la Gran Bretagna per esempio tutta la musica dei Beatles dei Rolling Stone il rock quello è soft power cioè quello è un avvicinamento fra paesi che sono distanti il turismo è soft power gli americani mandano in Cina la squadra di ping pong prima ancora di ristabilire le relazioni di natura diplomatica attraverso il governo Nixon il calcio è soft power vai all'estero e ti parlano di baggio che noi abbiamo dimenticato ti parlano di totti vedi gente con la maglietta italiana quello è soft power la enogastronomia cioè la diffusione dei ristoranti cinesi in Italia è soft power così come la diffusione delle pizzerie i kebab pensate che il numero dei kebab dei gentri cioè dei locali dove si taglia la carne alla turca in Germania è più alto il numero dei kebab che il numero delle pizzerie è questo quello che significa soft power significa creare legami creare rapporti la moda che cosa significa negli anni sessanta la creazione della minigonna significa cambiare la mentalità a milioni di giovani ecco chi misura nella classifica dei soft power dei paesi c'è una rivista inglese che si chiama Monocle è una rivista molto sofisticata molto bella che ogni anno stila questa classifica e la stila in base a tutta una serie di parametri che sono pensate all'Italia e ve li dico perché poi vi dirò la posizione italiana ricchezza della cultura innovazioni tecnologiche pubblicazioni scientifiche premi Oscar premi Nobel la qualità dell'istruzione accademica e scolastica i siti protetti dall'UNESCO i musei la hit parade musicale le medaglie d'oro olimpico il numero delle ONG gli aiuti economici umanitari e culturali dall'estero dati all'estero le produzioni televisive allora questi sono i parametri con cui più o meno valutano ogni anno il potere attrattivo come vi dicevo prima del soft power di ogni paese chi sono ai primi posti primo posto Stati Uniti perché ha probabilmente non tanti musei ma anche se ce ne sono tantissimi ma soprattutto ha un potere con il proprio potere di comunicazione di affascinare il mondo intero nei riguardi del cinema della musica e quant'altro secondo posto Gran Bretagna terzo posto la Francia soprattutto con l'enogastronomia cioè l'idea del vino francese è forse probabilmente quello più diffuso nel mondo come lusso la moda cose che noi evidentemente abbiamo ma non riusciamo a sfruttare che posto ha l'Italia ve lo dico dopo prima vi dico che al ventesimo posto c'è la Cina poi c'è il Brasile poi c'è l'India ventisesimo e l'India la Turchia al ventitresimo posto Israele ventisei India trentesimo posto Russia ventottesimo posto ecco l'Italia con tutto quello che ha da offrire in termini culturali in termini di diciamo di attrattive di monumenti di musei di musica perché l'opera è un altro aspetto fondamentale del soft power e tutto il resto non va oltre il sedicesimo posto non riesce a farsi strada all'interno di una serie di anche di percezioni come diceva John di percezioni e non riesce quindi a diventare anche attrattivo dal punto di vista degli investimenti e anche dal punto di vista del turismo purtroppo cioè l'Italia è al quinto posto in Europa come paese visitato prima è la Francia questo è un problema nostro è un problema di non riuscire a sfruttare al meglio tutte queste capacità e tutte queste risorse che noi abbiamo io vi invito a seguire sul sito anche il programma del festival della diplomazia ringrazio per l'ospitalità ringrazio la professoressa e i due amici che sono unico in me da Roma Tommaso a te la chiesura grazie 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 veramente abbiamo ascoltato dall'amico Giorgio quello che dice io posso aggiungere che sicuramente è un problema dei tecnici no un problema politico è un problema di ignoranza è un problema non lo so di che cosa è non lo so le domande sono tante ve le fate pure voi io mi occupo di tante cose provengo dallo spettacolo abbiamo fatto di tutto però sto sempre in questo settore non vado fuori quello che sono le mie competenze una mattina si alza qualcuno e dice che è un direttore delle telecomunicazioni fino al giorno prima era un medico io non condivido questa cosa non mi ho fatto personale io sono per i tecnici sarà sbagliato sono per i competenti parlava di turismo il mio amico Giorgio Bartolomucci parliamo di turismo ma parliamo di Cassino parliamo di Cassino che cosa ci abbiamo a Cassino non so se voi siete di Cassino ci abbiamo un teatro romano l'unico che si interpone tra Ostia Antica e Benevento che ci ricordiamo di questo teatro io non ho fatto di battaglia non sono un politico non mi metto a fare politica sono uno che si occupa di questo settore ma che cosa abbiamo di questo teatro che cosa ci ricordiamo di questo teatro qualche evento importante sta lì da duemila anni perché non c'è nessuno dico nessuno sono pronto a fare qualsiasi facciamo convegni facciamo dibattiti facciamo sai quante volte ho invitato personaggi a fare politica della cultura della cultura della cultura non va avanti più di tanto sono qua disponibile per il mio settore a rispondere a queste domande teatro anfiteatro la Roccaiano non ci siete mai andati io ci sono andato ho detto vediamo questo lavoro che stanno facendo andateci mettete le mani nei capelli all'interno atti soldi rubati 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 si ruba si ruba si ruba si ruba una villa due villa tre villa quattro villa si muore si muore si muore si muore si muore ricordatevi che dovete morire sapete che era il mio maestro io sono stato dieci anni con un maestro grande che diceva gli esami non finiscono mai si chiamava Edoardo De Filippo che mi ha insegnato tanto 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 ieri 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 Lino Bampi 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 ragazzi 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 è un casino l'ho fatto anche l'attore l'attore Lino Bampi un medico in famiglia cazzoni 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 chi volete che vi porto proietti chi volete ci abbiamo le pagine volete lo spettacolo lo spettacolo lo spettacolo no non funziona così non funziona così ragazzi io ho insegnato per 40 anni dappertutto licei accademi università il futuro è vostro ve lo dovete solo prendere ma dovete essere attenti capire dov'è l'imbroglio noi abbiamo fatto la nostra parte io almeno non mi sono arricchito perché ho creduto solamente alla mia passione a quello che facevo ci ho creduto veramente lo faccio tuttora lo faccio tuttora io credo molto nei giovani perché voi siete il futuro voi siete il futuro siete quelli che cambiano il mondo siete voi interessatevi di tutto della cultura in generale di tutte le cose economia musica teatro tutto tutto è importante è importantissimo siate curiosi siate curiosi perché è una cosa importante io adesso ho ascoltato il mio amico Giorgio quello che diceva e mi metto le mani nei capelli avete visto vi posso parlare di televisione Pompei chi ci sta è caduta la cosa quello è andato fuori il rosso poi c'è il bianco poi c'è il nero poi c'è il verde poi c'è la lega poi c'è quello ma di che cosa stiamo parlando Pompei sta sempre là i problemi sono sempre gli stessi ha da passare un tag non lo so qual è il problema va bene ragazzi io vi ringrazio vi ho detto già prima che abbiamo fatto questa cosa cercherò faremo altre cose se voi vi va faremo venire queste diplomazie di tutto il mondo questo cominceremo a settembre speriamo che ci riusciamo in questo progetto volevo ringraziare di nuovo la professoressa Silvana Casmini ricordo il professore ordinato di storia contemporanea sarà brevissima lucidissima attenta volevo ringraziare John che John Fanti ripeto che insomma vicepresidente della Camera di Commercio americana in Italia vicepresidente American Change of Commerce of people sarebbe vicepresidente della Camera di Commercio italiana io sono un po' più diretto almeno paulico ringraziamo il dottor Lucio Martino è stato bravissimo analista politico come ho detto molto attento del centro studi per la difesa centro altri studi per la difesa ringrazio tutti voi per la pazienza che avete avuto e grazie a tutti quanti voi anche all'organizzazione di economia grazie arrivederci grazie a tutti per la difesa e grazie a tutti per la difesa e grazie a tutti grazie a tutti